La filodrammatica Amici Laboratori Casine di Ostra presenta In anteprima mondiale, l'originale commedia comica in tre atti Quasi tutto calcolato Ma come commedie originali? Anteprima mondiale! Ma si, si, non l'ha fatta mai nessuno, è la commedia che abbiamo scritto noi Ah, è vero, commedia ideata, scritta e diretta da Fabio Beciani e Luca Birarelli Un cast di attori dilettanti Ma come dilettanti? Tutti professionisti! Guarda qua che nomi! E non dimenticate lo staff tecnico Edoardo Beciani Luciano Recanatesi Marco Tranquilli Roberto Ceccacci Insomma, un grande spettacolo! Ci si diverte, non potete mancare! Ho capito, ho capito, è una cosa bella, ma quando la facciamo? Sabato 7 dicembre al Teatro Comunale di Ostra 17 e 18 gennaio al circolo Aclifalco di Casine La facciamo addirittura alle casiere! Ma allora è una cosa seria! Certo che è una cosa seria! Noi proveremo a farvi ridere, ma siete voi che con il vostro contributo farete sorridere delle persone meno fortunate di noi E' un evento da non perdere! Mi raccomando, non mancate! Vi aspettiamo tutti! Quasi tutto calcolato!